Formalmente Gianfranco Viesti non è ancora presidente della Fiera del Levante, serve l'approvazione del Consiglio regionale. Il via libera non ci sarà domani, in quanto in seconda commissione i consiglieri del PDL hanno chiesto e ottenuto che l'assessora Loredana Capone tenga un'informativa alla seconda e alla quarta commissione sullo stato patrimoniale e sui bilanci della Fiera negli ultimi tre anni. Solo dopo la commissione esprimerà il suo parere. Luce sulle assunzioni, sulla situazione debitoria e sul rilancio della campionaria barese lo ha chiesto anche il presidente della provincia di Bari Schittulli che ha incontrato in modo informale il presidente Impectore della Fiera. Il professor Viesti ha risposto che innanzitutto necessario conoscere bene la situazione e per questo si è impegnato a presentare entro poche settimane ai soci e ai cittadini lo stato dell'arte. Quanto costa e come è organizzata la Fiera, cosa è stato fatto e cosa si fa, le risorse patrimoniali. Le Fiere negli ultimi anni hanno perso il 20-25 per cento di fatturato e anche quella barese mostra alcune criticità, riconosce Viesti. Nonostante tutti i segnali di distensione fra provincia e Fiera, Schittulli non accetta che nel CDA dell'ente ci sia un rappresentante della provincia nominato dalla precedente giunta di Vella. Ho fatto appello a che chi ha nominato i rappresentanti della provincia a suo tempo, parlo di 5-6 anni fa, che responsabilmente rimettono il proprio mandato in maniera tale da poter far sì che la provincia possa realmente assumersi le proprie responsabilità. Ma il professore fa capire che prima della scadenza naturale di ottobre difficilmente si potrà sostituire quel consigliere a meno che non sia lui a dimettersi. Il presidente della Fiera è totalmente estraneo questa questione. Deve lavorare col consiglio legalmente in carica come suo dovere di amministratore e deve lavorare con i soci, i vertici istituzionali dei soci come suo dovere di amministratore. Non può entrare minimamente in questa questione perché non può né disconoscere il consiglio né tantomeno disconoscere i soci.